25 anni dalla scomparsa di Federico Fellini, anche a Rio Nero il Cine Club de Sica ha organizzato un seminario sulla poetica del più grande dei visionari, a cura di Armando Lostaglio, e seguito il film Amarcord presso le scuderie del Palazzo Giustino Fortunato. Sentiamo dalla voce del critico cinematografico Armando Lostaglio l'importanza di questa iniziativa. Il Cine Club Vittorio de Sica celebra i 25 anni dalla scomparsa di Federico Fellini il 31 di ottobre e la mancanza di questo poeta, dell'immagine, di questo visionario rimane ancora viva nella memoria di chi ha vissuto, di chi si è cresciuto, di chi ha visto nei suoi film oltre quello che si vedeva in quegli anni. Fellini va oltre l'idea del neorealismo, va oltre l'idea della commedia, ha creato delle condizioni e delle situazioni straordinarie che ancora oggi rimangono da lezione per molti autori in questi decenni. Pensiamo a Maria Luisa Benberg, argentina, con il suo film De Sonos e Abla, con un grande Marcello Mastroianni. Pensiamo allo stesso Custuriza, Emir Custuriza, con il suo primo film, uno dei film premiati, l'Underground, di oltre 20 anni fa. Pensiamo allo stesso Paolo Sorrentino che nella grande bellezza, in molte, in molte immagini, rievoca e rielabora in qualche maniera la dolce vita. E dunque Fellini non poteva passare inosservato ad un'associazione culturale che fa della divulgazione cinematografica il suo emblema, quello che da oltre 25 anni sta portando avanti nella comunità del Vulture, a Rionero, ma anche in altre regioni. Dunque la visione di Amarcord non poteva che fare da specchio e da emblema di questa lunga, immensa cinematografia di Federico Fellini. L'abbiamo rievocato, sono molte le presenze, l'assesso patrocino del Comune di Rionero, il CIF di Rionero, Unilabor Cervellino e l'Istituto Superiore Giustino Fortunato, con il quale terremo delle lezioni di cinema a partire fra le prossime settimane. E quindi porteremo sia Federico Fellini, ma tutta la poetica che gravita intorno a questo immenso autore. Perchè non faccio niente, professore? Non ero nel 69? Nel 50, no. Ma hai sicuro che non ero nel 69? Come sarei? Era nel 50, no? Ma anche lo so io! Tu non fai spazio, ma fai spazio! Tu non potevi essere nel 69? Tu non potevi essere nel 69?